Musica 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 Ehi, prestatemi orecchie, chi ce ne ha, peato chi ha un occhio e se lo asciugherà, racconto la storia che rituggerà, della sposa graziosa dell'al di là. Dove è l'idea che torna a te, non morire con franzo e che male c'è, posso provare a scappare la comanda di salti, ma dovremmo al fine morire tutti qua. Vincent Malloy è un bravo bambino, ha sette anni ed è assai perbenino, per la sua età a virtù assai rare, ma a Vincent Price vuol somigliare. Grazie per la visione!